Grazie per due minuti. L'onorevole Serracchiani. Grazie Presidente, grazie Commissario. Il problema della pirateria non è nuovo per questa sede ed è stato trattato da questo Parlamento con la risoluzione del 2009. È nota la vicenda che ha coinvolto due militari italiani in arresto con l'accusa di aver provocato la morte di due pescatori indiani. In proposito vanno accolte con favore le assicurazioni dell'alto rappresentante per la politica estera, la baronessa Catherine Ashton, che ha detto di seguire con attenzione il caso facendo tutto il possibile per risolverlo positivamente e che l'episodio va inserito, cito testualmente, nel più vasto contesto della cooperazione internazionale contro la pirateria e più specificatamente nel quadro delle regole per la protezione a bordo delle navi. Ma l'episodio impone di riflettere sul fatto che il fenomeno della pirateria nell'oceano indiano o a largo delle coste somale è ancora un problema estremamente scottante. Nell'ambito della politica di difesa e di sicurezza l'Unione Europea ha lanciato la missione Atalanta nel dicembre del 2008 e nei giorni scorsi è stato approvato il suo prolungamento fino al 2014, ma il numero di navi interessate è diminuito notevolmente, da 35 nel 2009 a 10 nel 2011. L'Unione Europea intende coordinare, lo sappiamo, più strettamente le forze navali e militari imbarcati sulle navi civili dei Paesi membri che controllano il Mar Rosso, il Golfo di Aden e l'Oceano Indiano. Si ritiene utile quindi stabilire regole d'ingaggio comuni, ad esempio? In generali, quale altre iniziative coordinate l'Unione Europea intende adottare per proteggere le navi mercantili dagli attacchi dei pirati? E quali misure intende prendere con i Paesi terzi che non tutelano le navi mercantili che transitano tra il Mar Rosso, il Golfo di Aden e l'Oceano Indiano? Grazie. Grazie. La parola all'Onorevole Patrao per un minuto e trento. Grazie molto, signora Presidente. Signor Commissario, la pirateria marittima oggi è un fenomeno con un'ampiezza sempre crescente e sempre più frequente, ma che...